Buonasera, allora tra poco un telegiornale che si caratterizza, voi direte che novità, sulla pagina politica, però le novità oggi sono tante e importanti. Intanto, all'ora di pranzo il governo è riuscito a passare lo scoglio della fiducia, 316 voti, vuol dire precisamente la maggioranza assoluta dei deputati della Camera, né più né meno, ovviamente una soglia che fa discutere, ma quel che è successo è importante. Le opposizioni avevano architettato una sorta di trappolone, di agguato, mancare tutti anche oggi dall'emiciclo e fare in modo che se non arrivavano a 315, alla maggioranza meno fini dei presenti in aula, fosse constatata automaticamente l'assenza del numero legale così da invalidare la votazione. Non è riuscito questo trappolone anche per la defezione dei radicali, quindi nuove polemiche tra PD e i 5 deputati radicali che sono stati eletti proprio nelle fila del partito attualmente guidato da Bersani. Dall'altra parte ci sono state delle defezioni e anche qui polemiche su chi, come il nostro telegiornale, ieri sera vi aveva anticipato Giustina Destro, ma anche Gava, ma anche Mannino, ma anche Sardelli non ha partecipato, non ha voluto aggiungere la sua fiducia. I numeri del governo sono stretti, l'opposizione però ancora una volta dimostra di poter svolgere un ruolo fino a un certo punto, ma ci sono altri due fatti. Berlusconi va da Napolitano al Quirinale e il capo dello Stato anche con una lettera ai capigruppo della maggioranza alla Camera fa capire che non tutto è superato per quello che è successo, per il grave incidente prima sul conto generale dello Stato e poi appunto sulla necessità della fiducia. Il conto aperto tra PD e radicali, ma nella maggioranza anche la carota per chi evidentemente ha aiutato, ha puntellato la maggioranza in un momento difficile. Subito dopo infatti il voto di fiducia, Consiglio dei Ministri e la nomina di due nuovi viceministri e due sottosegretari. Immaginate le polemiche, le parole più benevole sono quelle di Bersani e come al mercato o a porta portese. Subito pagamento, subito baratto e subito evidentemente la ricompensa per chi ha aiutato ad ottenere la fiducia. Tutte queste polemiche vedremo questo e altro nel momento in cui però la giornata, è doveroso ricordarlo, è finalmente più fausta e al contrario di quella di ieri sul fronte delle borse e dell'economia. Il debito scende un po' sotto quota 1900 miliardi, che è comunque uno sproposito. La borsa di Milano è quella che è andata meglio, oltre il 2% di guadagno e lo spread si abbassa. E poi c'è da parlare evidentemente anche delle inchieste giudiziarie e da ricordare che questa sera, dopo di noi dopo 8 e mezzo, arriva per la prima volta in televisione un film, un film che ha fatto tanto discutere e che soprattutto non si poteva trasmettere in televisione. Viva Zappatero di Sabina Guzzanti. I titoli. Ecco la fiducia numero 51. Dopo una mattinata in Altalena arriva in aula l'applauso liberatorio. Il tentativo delle opposizioni che provano a far mancare il numero legale non riesce. 316 sì. Perlusconi può tirare il fiato e dire degli avversari. Per loro una figuraccia. In aula all'improvviso si materializza la pattuglia dei guastatori radicali e il PD si infuria. Il gioco del numero legale finisce mentre Bersani e Franceschini s'arrabbiano. Sull'altro fronte con la maggioranza. Sul banco degli imputati finiscono invece i deputati assenti. E un paio d'ore dopo il voto arrivano i premi fedeltà. Due sottosegretari sono promossi vice ministra e altri due deputati sono nominati sottosegretari. Berlusconi ha pagato una cambiale, dicono anche nello stesso partito del Premier. Una vergogna, uno scambio da mercato, dice l'opposizione. Poi Berlusconi con la fiducia in tasca va da Napolitano, il quale aveva chiesto al governo garanzie politiche e non aritmetiche. Il clima non è da missione compiuta, dal capo dell'estate arrivano delle riserve, ma formalmente il criminale promuove l'operato del governo. A Roma, Giampi Tarantini, l'imprenditore delle escort, ancora in corso il suo interrogatore per chiarire il giro di soldi finito nelle sue tasche dalla cassaforte di Berlusconi. E a Milano, interrogatorio a Monta, interrogatorio per l'ex vice di Penati, Giordano Di Mercati, che non ci sta e dice mai stato collettore di tangenti. Questa sera, film evento, arriva sulla 7, viva Zapatero, il film di Sabina Guzzanti, che nessuno voleva mandare in onda. E dopo il film faremo un dibattito su quello che è successo oggi e sullo stato dell'Italia politica. Buonasera, è stata una giornata che, come avete visto dai titoli, si è caratterizzata sul voto di fiducia. Un voto di fiducia che è il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, che comunque è un voto di fiducia. È il cinquantonesimo per il governo, mentre fallisce l'assalto dell'opposizione con un trucco, una stratagemma, una trappola, chiamatelo come volete. Tentativo di far mancare il numero legale. Tutto questo è successo questa mattina, vediamolo insieme. Votanti 617, maggioranza 309, hanno votato sì 316, hanno votato no 301. La Camera approva. È un applauso liberatorio, quello che poco dopo le 14 accompagna il verdetto. Il governo ottiene la cinquantunesima fiducia e con la maggioranza assoluta di 316 voti. La debacle di martedì scorso, con l'affossamento del rendiconto generale dello Stato, può essere archiviata come un semplice incidente di percorso. Dopo una mattinata in altalena, appesi a numeri incerti e a deputati capricciosi, ex responsabili e scaioliani che escono e rientrano nella maggioranza. Dopo il tentativo a Ventiniano dell'opposizione di far mancare il numero legale, Berlusconi può tirare un sospiro di sollievo. Eppure, fatti salvi gli ottimismi della vigilia per dovere d'ufficio, si è tremato fino a l'una e mezza, dentro e fuori Montecitorio. Perché i numeri erano ballerini, da 314 a 320, dicevano i ben informati. Ma poi si dovevano sottrare gli scaioliani del Veneto, Giustina Destro e Fabio Gava. Gli assenti per malattia, Franzoso e Ascerto, Alfonso Papa in carcere, Versace e Mannino già fuori dal centro-destra. In ballo il voto del responsabile Sardelli. No, sì e poi di nuovo no dopo due colloqui con Berlusconi in persona. Il terzo polo con il centro-sinistra, Copyright e Dario Franceschini, decidono allora di tentare il colpaccio. Se la maggioranza non si può battere sui numeri, forse lo si può fare sul numero. Il numero legale, che come in ogni assemblea elettiva, va garantito anche senza le opposizioni. La sticella è fissata a quota 315 presenti. Allora tutti fuori dall'aula, come ieri, ma anche durante la chiama per la fiducia. Resta incerto però il comportamento dei cinque radicali, ormai fuori dal gruppo PD dopo la presenza a dispetto di ieri durante l'intervento di Berlusconi. E che si negano per tutta la mattinata, persino al telefono a Franceschini. All'una e un quarto, il vicepresidente della Camera Lupi dà per certo il numero legale e la fiducia. All'una e mezza il suo pronostico si trasforma in certezza. Con l'ingresso in aula da un corridoio laterale della pattuglia di Pannella, che vota no alla fiducia, ma pur sempre vota facendo salire il numero dei presenti, anticipando nei fatti il fallimento del blitz. Perché alla fine la maggioranza i numeri li avrebbe avuti comunque. A quel punto tutti in aula. Ma alla fine per l'opposizione non resta che la consolazione di una maggioranza scisa di tre voti rispetto a quelli sulla carta. Ci sono le prime defezioni, è una vittoria di Pirro, dice Casini. Si voterà comunque nel 2012 e noi siamo pronti. Di fiducia si muore, garantisce sfidando il paradosso il leader PD Bersani. Formalmente però la maggioranza c'è. Formalmente si muore, sostanzialmente si vive e allora alla sostanza dobbiamo perdere. Sarà Berlusconi invece, canta vittoria. Basta che vinciamo sulla sinistra che per ora ha inscenato questa farsa. Festeggiano i fedelissimi, festeggia il grande regista dei numeri, Denis Verdini. Lei quindi è convinto che il governo possa andare avanti fino alla fine della legislatura? C'è questo clima sufficiente per continuare? Questa è la volontà. Dipende dai parlamentari, dipende dalle maggioranze, dipende dalle fiduce. Se devo rispondere dopo questa, gli dico sì, sì, sì. Berlusconi andrà al voto quando lo dico io. Festeggia anche Bossi, il presidente della Camera, il leader di Futura Libertà Fini. Prende atto del voto, il governo è pienamente legittimato a governare perché ha ottenuto due voti in più. Tuttavia, se non apre gli occhi, più che governare, continuerà a galleggiare. Insomma, avevano provato questo agguato, questo trucco, questa trappola, come è pienamente legittimo in democrazia, è ben inteso, ma non gli è andata bene. E ovviamente, essendo che in qualche modo il giocattolo è stato rovinato dai radicali, ancora più alta adesso la polemica tra il PD e i radicali. Ancora una volta, la più infiguriata è Rosi Bindi. Il contrapasso per il centro-sinistra arriva alla fine della prima chiama per la fiducia, quando in aula si presenta la pattuglia dei cinque deputati radicali eletti nelle liste del Partito Democratico, da un po' introvabili al telefonino. È il colpo di teatro, la conferma che il tentativo di PD, DV e Terzopolo, ordito in mattinata di far mancare il numero legale, è fallito. I radicali votano contro il governo e allora, per la seconda chiama, tra gli scherni e gli sfottò della maggioranza, si precipitano scompostamente in aula i deputati dell'opposizione, per dire anche loro no alla fiducia. È l'epilogo impacciato del tentativo di spallata. Nel PD bolle la rabbia per la dissociazione dei radicali. I voti sono voti, dice il PD e le lupi a Rosi Bindi in transatlantico, e lei riserva un insulto ai pannelliani. No, sbotta, gli stronzi sono stronzi. I tabulati diranno poi che la scelta dei radicali non è stata decisiva per il raggiungimento del numero legale, ma la ferita politica resta, anche perché la mossa dei cinque toglie coraggio ai malpancisti del centrodestra, ancora non usciti allo scoperto, e ridà fiducia ai pasdaran del premier. I radicali seguono la loro strategia. Noi abbiamo altro da fare, dobbiamo mettere insieme tutte le forze che lavorano per un'alternativa a Berlusconi, taglia corto il segretario del PD Bersani. Ma sui radicali ha parlato ieri il segretario, si erano da tempo autosospesi, con le scelte che hanno compiuto in questi giorni è evidente che le strade sono separate. Casini invece da cattolico si rallegra per il distinguo dei laici radicali, che mette in imbarazzo il PD. È talmente evidente che non mi può che far piacere l'atteggiamento dei radicali, così sono venuti allo scoperto con quello che fanno. Bene, comunque c'è libertà, per cui loro hanno ritenuto di fare questa scelta, è una scelta comunque di chiarezza di cui bisogna essergli grati ai radicali. I radicali hanno solo cercato visibilità, attacca il leader del PDB di Pietro, e Granata, futuro e libertà è duro. Che pena, almeno avessero chiesto l'amnistia, ma per una radio un tozzo di pane non si può. Loro, i radicali, non ci stanno a fare la parte dei traditori, negano ogni contatto con il premier e la maggioranza, ribadiscono di non essere stati determinanti, i numeri alla mano. Il PD ci ha contattato solo questa mattina, come se fossimo a loro disposizione, dicono, e passano al contrattacco. Noi abbiamo votato contro questo governo, mentre esponenti eletti nel PD e nell'Italia dei Valori sono già passati da molto tempo dall'altra parte. E Pannella ironizza con un comunicato. Quelli del centro-sinistra sono degli artisti, sono riusciti a regalare un altro successo a Berlusconi, non possiamo fare di mestiere quelli che salvano i carcerati e i democratici, sospetto che ci sia del masochismo, riescono a essere mangiati anche quando l'altro è in polpette. Il vecchio leader conclude, se ci tengono a essere completamente dipendenti dalla loro mediocrità assoluta, facciano pure. Ma 316 non è una quota di sicurezza per il governo, è la maggioranza assoluta dei deputati della Camera. Ma certo, nell'ordinaria amministrazione, nella futura vita del Parlamento, con una maggioranza così risicata, si va poco avanti. E sono i primi a saperlo, gli esponenti dei tre raggruppamenti del centro-destra. Anche per questo c'è stato un pressing fino all'ultimo, per convincere chi aveva deciso di fare un passo indietro, magari a farlo la prossima volta. Però i nomi che avevamo anticipato nel telegiornale di ieri sono proprio quelli di coloro che non sono andati a votare. Il Presidente mi ha chiamato, io ho grande stima e considerazione per quello che il Presidente ha fatto in questi 18 anni, e per questo gli ho chiesto di salire al Quirinale e di aprire una nuova fase politica. Poteva essere protagonista per un giorno, mettere a rischio la pur flebile tenuta del governo, rappresentare la versione aggiornata dieci mesi dopo dei vari scilipoti, razzi, siliquini e polidori, i dissidenti del 14 dicembre scorso. E invece no. Luciano Sardelli, l'ex capogruppo dei responsabili, che oggi si è fatto trovare davanti a Montecitorio per far vedere a tutti che non entrava dentro, dopo il passaggio della fiducia si dichiara pure contento che abbiano raggiunto quei voti senza di lui. Mentre Silvano Moffa, il nuovo capogruppo dei responsabili, che ora si chiamano Popolo e Territorio, comunica la sua espulsione, Sardelli annuncia che andrà al gruppo misto con l'intenzione di fondare un partito dei moderati, popolare e riformista, una grande forza moderna. In totale sono quattro i deputati della maggioranza, assenti oggi in aula per scelta. Oltre a Sardelli, Santo Versace, già uscito dal PDL, che non ha votato perché si è fatto tardi ed è dovuto andare all'aeroporto. E comunque avrebbe votato no. E poi i due scaiolani veneti, Fabio Gava e Giustina Destro. Gava ha fatto sapere che da lunedì passerà al gruppo misto. Ho già dato disposizione ai miei uffici. È stata una decisione difficile e sofferta. Credo, aggiunge poi sempre Gava, che sarebbe stato necessario uno scatto, un cambiamento di passo, un allargamento della maggioranza, non c'è stata nessuna disponibilità. E il discorso del Premier è stato deludente. Lo ha detto anche lui. Stesso discorso per Giustina Destro, ex sindaco di Padova, sulla quale, come per il collega Gava, pesa la scomunica del PDL. Le scelte hanno anche delle conseguenze dopo. Non è questo che mi preoccupa. Quello che io volevo è dare un forte segnale anche ai veneti e ai padovani, perché credo che, insomma, i problemi sono molti. Le persone hanno bisogno di scelte immediate e di importanti decisioni che devono essere prese in pochissime ore. Non c'è più tempo da aspettare. Già, ci sono quelli che hanno detto no, o per meglio dire che non hanno partecipato al voto. Ma chi ci ha partecipato è stato anche premiato, non dalla partecipazione al successo del voto di fiducia, ma subito dopo al Consiglio dei Ministri. Ovviamente le polemiche si sono fatte subito durissime, anche all'interno della stessa maggioranza, perché nessuno sapeva che in Consiglio dei Ministri c'era giacente il progetto di fare due nuovi viceministri e due nuovi sottosegretari. Invece è stato proprio così. Meno di due ore dopo il voto di fiducia che ha garantito la sopravvivenza al governo Berlusconi, i sottosegretari Katia Polidori, ex Finiana, e Aurelio Misiti, ex di Pietrista, sono promossi viceministri. E Giuseppe Galati, uomo di fiducia di Mario Baccini, di questi tempi inquieto, si ritrova sottosegretario all'istruzione, al posto di Guido Viceconte, che resta sottosegretario, ma si sposta al Ministero dell'Interno. È la decisione che fa più rumore, più inaspettata tra quelle prese dal Consiglio dei Ministri, in realtà dedicato alla legge di stabilità e alla riproposizione del rendiconto generale dello Stato, che il Quirinale ha autorizzato. Berlusconi ha pagato una cambiale, dicono nello stesso partito del Premier. Queste nomine offuscano la vittoria di oggi, incalzano, protetti dall'anonimato, esponenti di spicco del PDL. Berlusconi non aveva bisogno di compensarli, lo aveva già fatto. Questo scatenerà le proteste e l'instabilità, allora lo dica che vuole andare a votare. I toni e gli argomenti sono questi. Non in linea per una volta con l'aria che si respirava in Consiglio dei Ministri. Dopo la grande paura del mattino, la fiducia ottenuta con grande fatica e suspense ha consigliato a tutti prudenza, ha fatto digerire per ora i 7 miliardi di tagli lineari ai ministeri, temperati da accorgimenti tattici e promesse di Tremonti. A Stefania Prestigiacomo, che solo 24 ore fa aveva minacciato di non votare la legge di stabilità, né in Consiglio dei Ministri né in Aula, il Ministro dell'Economia ha assicurato che troverà una soluzione. Nelle prossime ore il Ministero dell'Ambiente sarà salvato. Al Ministro dello Sviluppo Economico Romani, con il quale Tremonti si era scontrato ieri sulla banda larga, ha promesso che fondi per investire nel settore saranno assicurati dalla Cassa Depositi e Prestiti, anche se resta stampato nel provvedimento che i proventi extra derivati dall'asta delle frequenze non andranno alle telecomunicazioni. Il 50% sarà destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il restante 50% al Ministero dell'Economia per interventi urgenti. Per il resto, i tagli ai Ministeri dell'Interno, della Difesa e dell'Istruzione saranno almeno in parte bilanciati. Segnali di attenzione di interlocutori di peso, Maroni, Gelmini e La Russa. D'ora in poi cerchiamo di garantire la maggioranza alle votazioni, ha raccomandato il Premier, consapevole che la partita più difficile, quella sulle misure economiche, in realtà non è ancora cominciata. Il problema dei problemi è il decreto sviluppo. Di slittamento in slittamento il 20 ottobre è la data fissata per il Varo. Le cabine di regia, commissioni, correnti sono al lavoro per deciderne i contenuti e non lasciare mani libere a Tremonti, che lo vuole a costo zero. Ieri l'avvertimento di Frattini e della corrente di Crosetto e anche gli scaioleani sono al lavoro. Sarà quella, dicono tutti, l'ultima chiamata. Ma c'è un posto in cui Berlusconi non è a capotavola, è al Quirinale, dove è andato oggi pomeriggio a riferire al capo dello Stato sull'esito felice del voto di fiducia. Era questo ciò che chiedeva Napolitano. Come noto, nei giorni scorsi c'è stata divisione. La richiesta del capo dello Stato era che la maggioranza dimostrasse la sua coesione e la sua capacità di far andare avanti il governo. E' bastato questo voto di fiducia proprio sull'asse dei 316 voti? Berlusconi sale al Quirinale con in tasca il voto di fiducia che salva ancora una volta la sua maggioranza. Numeri dietro i quali si trincera per assicurare al capo dello Stato che il governo può andare avanti. Napolitano del resto i suoi dubbi li aveva già espressi mercoledì, il giorno dopo l'incidente parlamentare sul rendiconto di bilancio, mettendo nero su bianco in una nota che le garanzie chieste al governo non erano solo algebriche, ma politiche. Preoccupazioni che il capo dello Stato non deve aver accantonato del tutto se poche ore dopo il voto di fiducia di oggi torna a ripetere in una lettera. Preoccupa il contesto istituzionale nel quale c'è stata la mancata approvazione. L'inegabile manifestarsi negli ultimi tempi di tensione in seno al governo e alla coalizione con la successiva incertezza nell'adozione di decisioni dovute o annunciate. Formalmente però Napolitano promuove l'operato dell'esecutivo. Dopo la bocciatura del rendiconto non era chiamato a dimettersi, ma sì, era utile un passaggio in aula per la fiducia. Fiducia che, scrive Napolitano, non può essere abusata senza violare le prerogative del Parlamento. Insomma, il colle resta vigile. Napolitano risponde ad una lettera inviatagli dai capigruppo della maggioranza che si lamentavano per il comportamento del presidente della Camera Fini dopo la mancata approvazione del rendiconto di bilancio. Il capo dello Stato difende la terza carica dello Stato che si è comportata correttamente usando le sue prerogative. Ma nel faccia a faccia di oggi, durato circa 40 minuti, Berlusconi e Napolitano parlano anche del caso Banchi Italia. L'impasse sul nome del successore di Draghi che da novembre dirigerà la BCE preoccupa il Quirinale per l'incertezza che genera anche sui mercati. Berlusconi ne aveva parlato poco prima alla Camera. Prendendo tempo, al Quirinale avrebbe usato altri toni, spiegando che a breve ci sarà una soluzione senza però sbilanciarsi sui nomi. Senza dire se la spunterà Saccomanni, candidato interno sponsorizzato da Draghi ed Alcolle sul quale puntava anche Palazzo Chigi o Grilli, uomo del Ministero dell'Economia caldeggiato da Tremonti e Bossi. Del resto oggi il Premier ha visto anche Bini Smaghi, attuale membro italiano del board della BCE, possibile outsider del Toto Nomine. Già, e a proposito della Banca d'Italia, proprio da lì, dal nostro istituto bancario centrale arrivano notizie almeno in parte confortanti sullo schiacciante enorme debito pubblico italiano. Almeno un pochino sotto una soglia psicologica è sceso. Non è che oggi le paure non valgano più la ricapitalizzazione delle banche, chi come quanto era e resterà un rebus. Ma in Borsa c'era voglia di tirare un colpo di spugna sulla nerissima seduta di ieri. Colpo che vale doppio. È arrivato di venerdì, giornata sempre critica, per di più un venerdì di attesa del G20 di Parigi, dove si parlerà di Grecia e Fondo Salva Stati, di come trovare i soldi per tamponare le falle in Europa. E qui l'uscita di Timothy Geithner oggi una mano la data. Per il ragioniere d'America il Fondo Monetario Internazionale ha sufficienti risorse per tamponarle queste falle. Insomma, il paracadute c'è, poi come verrà aperto è da vedere. È la solita altalena dalla quale si sa è ancora molto facile cadere, ma oggi no. Milano ha archiviato con un più 2,49%, ben più ricco di quanto fatto a Francoforte, Parigi e Madrid. Da noi a trainare c'è stata la Fiat e le banche. La liquidità incassata con lo storno di ieri è servita per ricomprarle. È così che si fa. Un giorno perfetto o quasi, perché c'è stata la conferma dell'inflazione al 3% per colpa dell'aumento dell'IVA, ma almeno il debito pubblico per una volta si è presentato con un volto diverso. Quell'enorme condanna matematica si è ridimensionata un po'. È successo in agosto dato Balneare per di più viziato dal rinvio di un paio di aste di botte BTP che, come si sa, creano debito. Così come lo creano quegli interessi marziani che ora ci tocca pagare agli investitori. Ma ecco, l'indebitamento della nazione è tornato sotto quota 1.900 miliardi. Un calo che è un soffio, ma c'è. Anche se dirlo stride con la piazza indignata che contro il debito urla. Per colpa proprio del debito zavorra tradizionale l'Italia ha sentito di più la crisi. Lo ha detto la Banca d'Italia nel suo bollettino l'ultimo dell'era Draghi. Le imposte fiscali aumentano, ma non basta. Al Paese servono urgenti misure per crescere. Nel secondo trimestre PIL ad appena più 0,3% un niente. Abbiamo poi imprese sfiduciate e prospettive poco rose sull'occupazione. Le banche sì sono solide, ma fanno meno credito a Mette Banca Italia. Chi sofferirà da tutto questo? I giovani predestinati ormai ricorrenti. E già i giovani predestinati abbiamo visto anche le proteste alcuni secondi di proteste indignati che proprio le banche e le banche centrali hanno preso di mira. Oggi breve manifestazione anche davanti alla Camera mentre si votava la fiducia. Ma il vero giorno lo sappiamo è domani. Domani Roma sarà invasa da molte decine di migliaia per lo meno queste le previsioni di giovani e anche non solo giovani dei cosiddetti indignati italiani in contemporanea con manifestazioni che avverranno in tutto il mondo. Qui è inutile parlare dei timori dell'ordine pubblico offenderebbero ovviamente chi sta arrivando nella capitale per manifestare pacificamente ma è ovvio che ci sono delle misure che sono già state approntate. Oggi Roma Palazzo di Giustizia è arrivato per un interrogatorio che potrebbe far svoltare l'inchiesta Gianpaolo Tarantini. a domanda risponde Giampi Tarantini l'imprenditore delle escort arriva in procura a Roma nel primo pomeriggio teso accompagnato dai suoi avvocati un interrogatorio fiume ancora in corso negli uffici del procuratore aggiunto Pietro Saviotti poteva decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere Tarantini ha scelto invece di parlare con i magistrati romani non sappiamo ancora se la sua versione di oggi si distaccherà e di quanto dai precedenti interrogatori comunque tutto il pomeriggio a rispondere sul giro di quei soldi il denaro finito nelle sue tasche dalla cassaforte di Berlusconi circa un milione di euro in due anni costati all'imprenditore pugliese che portava le ragazze nelle case del presidente del consiglio un'indagine per estorsione è l'inchiesta romana sul presunto ricatto ai danni di Berlusconi che vede tra gli indagati anche la moglie di Tarantini Angela De Venuto e il faccendiere Walter Lavitola in seguito all'interrogatorio di oggi i magistrati romani potrebbero presso convocare come persona informata dei fatti anche il presidente del consiglio che secondo il teorema dell'inchiesta capitolina sarebbe parte l'esa vittima del ricatto nei corridoi della procura si fa capire che un colloquio con Berlusconi diventa a questo punto necessario anche per mettere a confronto la versione degli indagati con quella che il premier ha rilasciato in una memoria scritta sempre nel pomeriggio da Bari per Tarantini arrivano altri guai il procuratore aggiunto Pasquale Drago ha avviato nuove indagini per stabilire se l'imprenditore abbia detto il falso in precedenti interrogatori è la conseguenza del nuovo giro di valsa e dell'inchiesta barese sulle escort che vede indagato finora il solo Walter Lavitola con l'accusa di induzione a mentire avrebbe spinto Tarantini a dire il falso affinché non parlasse ai magistrati delle vicende legate alle ragazze per Lavitola latitante in Centro America oggi il GIP ha formalmente emesso un nuovo mandato di arresto il dispositivo ricostruisce i rapporti economici tra Berlusconi Lavitola e Tarantini e ribadisce la circostanza che Tarantini avrebbe mentito ai magistrati baresi Berlusconi è scritto sapeva che le donne che lui gli portava erano prostitute dall'Atene delle inchieste sul premio e dintorni alla Sparta delle inchieste invece sul PD e dintorni Monza interrogatorio del vice di Penati un pazzo indietro a Penati c'era sempre lui Giordano Vimercati Rasputin per amici e nemici della politica di sesso l'uomo ombra il suo ex capo di gabinetto oggi accusato insieme al dirigente PD sospeso di corruzione concussione finanziamento illecito ai partiti sempre in silenzio dall'inizio dell'inchiesta oggi Vimercati cambia strategia dopo l'interrogatorio cinque giorni fa di Penati si fa interrogare anche lui dal PM Walter Mapelli arriva presto in procura Monza una stretta di mano con il magistrato prima del faccia a faccia che dura quattro ore e mezza all'uscita poche battute con i cronisti che gli chiedono se si senta scaricato da Penati non sono solo sono con la mia famiglia che mi sostiene con gli amici che mi sostengono non sono solo non mi sento solo Vimercati nega tutto rispedisce al mittente le accuse non solo alle due gole profonde gli imprenditori Giuseppe Pazzini e Piero Di Caterina ma anche al suo ex capo Penati che su di lui avrebbe scaricato la responsabilità dei rapporti con il partito il nostro cliente non si è mai occupato di finanziamenti al PDS o ai DS a livello locale e nazionale ma solo dei contributi per le campagne elettorali del candidato Filippo Penati dicono i suoi avvocati in una nota diffusa nel pomeriggio poco dopo l'interrogatorio ma qual è il ruolo di Giordano Vimercati in questa inchiesta il suo nome nelle carte è quasi sempre associato a quello di Penati per i pubblici ministeri era l'intermediario tra il politico PD e gli imprenditori che avrebbero pagato le tangenti il materiale percettore delle somme scrive il giudice delle indagini preliminari secondo Di Caterina fu Vimercati a raccontargli di come il suo rapporto col capo si sarebbe interrotto dopo l'operazione Serravalle perché Penati non gli avrebbe mai dato i soldi di quell'affare finiti poi a Monte Carlo a Dubai in Sudafrica dice sempre l'imprenditore dei trasporti ma l'ex capo di gabinetto liquida la rottura con Penati come questione politica e poi ci sono le cooperative rosse entrano nell'inchiesta perché stando sempre ai racconti dei grandi accusatori imposte agli imprenditori proprio da Penati e Vimercati in cambio di agevolazione in sull'area Falc oggi Vimercati lavora ancora come consulente per quelle stesse coop le sue parole non convincono del tutto il pubblico ministero ora l'attesa è tutta per la decisione della procura che sta valutando se rinunciare al riesame previsto per il prossimo 21 ottobre cioè il ricorso per il mancato arresto della coppia Penati Vimercati non un passo indietro della procura ma un modo per arrivare prima a processo in breve una notizia dall'estero la volpe è finita in pellicceria Liam Fox ministro della difesa britannico si è dovuto dimettere dopo la crescente montagna di campagne di stampa sulle sue relazioni evidentemente non confessabili con quello che spacciava per un suo collaboratore che ha portato non a spese proprie in giro per missioni ufficiali e non per il mondo era stato fra l'altro pescato e con il ritrovamento della documentazione filmata da un blogger italiano Sensi che aveva passato le immagini all'Observer e da lì è iniziata la campagna di stampa che ha portato oggi Fox alle dimissioni a proposito di campagne di stampa a proposito di libertà di informazione e di satira questa sera dopo otto e mezzo arriva per la prima volta in televisione Viva Zapatero il film del 2005 di Sabina Guzzanti il film che fu applaudito al festival di Cannes ma che i telespettatori italiani fino ad oggi non avevano mai potuto vedere è un film diciamolo subito che ci riporta a un periodo non tanto distante sei anni fa da quello di oggi che vive il paese la sua televisione la sua informazione e la sua satira dopo il film dopo il film invece di fare il come dire il cineforum ci occuperemo di questa giornata di queste giornate si dice visto che il titolo è Viva Zapatero che Berlusconi dovrebbe fare come Zapatero in Spagna annunciare il passo indietro e indire le elezioni anticipate ma non è evidentemente almeno per oggi questo il suo intento di materia di tutto quello che è successo oggi si discuterà tra poco a otto e mezzo con due giornalisti il direttore dell'unità Sardo e il vice direttore del di Libero Bechis con Lillie Gruber ovviamente ci fermiamo non ci sono altre notizie dell'ultima ora quindi vi lascio al Lillie Gruber a otto e mezzo ci vediamo subito dopo per vedere insieme questo film in prima televisiva di Sabina Guzzanti viva Zapatero dopo Grazie